Il dado è tratto, o quasi, quando si tratta di individuare uomini a caparrarsi poltrone, il Premier non fallisce un colpo. E così, dopo settimane ad altissima tensione, grazie alla mediazione di Marco Migniti, come sempre preziosissimo in queste circostanze, Nicola Irto diventa il candidato della maggioranza DEM per la successione ad Antonio Scalzo alla guida del Consiglio regionale. Tanti gli scogli superati. Intanto da Catanzaro la presidenza dell'assise di Palazzo Campanella passa a Reggio Calabria. L'eventuale elezione di Nicola Irto sarebbe, in secondo luogo, la vittoria della famiglia Falcomatà sull'altra fazione renziana dello stretto. 33 anni, già vicesegretario del PD calabrese, Irto corona un sogno forse insperato fino a qualche tempo addietro. Ieri sera, alla mezza, il governatore ha annunciato la scelta operata nelle segrete stanze e spera in un consenso senza distinguo, oggi all'interno dell'astronave, magari evitando il dibattito che il centrodestra vorrebbe intavolare strumentalmente sulle dimissioni di Antonio Scalzo. Ma non mancano gli attriti. A sinistra Mimo Battaglia la decisione dei vertici DEM non l'avrebbe presa affatto bene e i soliti ben informati parlano di attacchi pesantissimi a Magorno. All'appello del governatore non hanno risposto presente neppure Carlo Guccione e Giovanni Lucera. Avrebbero voluto maggior collegialità nelle scelte, Orlandino Greco, Vincenzo Pasqua e Flora Sculco, che però non si spingono oltre. Ma il timore è che i due franchi tiratori di gennaio possano crescere di numero. Se così fosse, servirebbe il pronto intervento dell'NCD. Affatto improbabile, visto che, a quanto pare, quello dei Gentile nei giorni scorsi era l'ennesimo fuoco di paglia. Grazie a tutti.